Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, non porto l'orologio, però stiamo... Quanto manca? Un'oretta la chiusura? Quanto manca? Quanto manca all'alba per domani? Manca un'ora e dieci, un'ora e venticinque la chiusura. Un'ora e venticinque, cinque ore, quindi quattro, tra quindici ore avremo il nuovo album del Rolly Stone e sarà in buona compagnia. A parte domani lo faremo suonare per tutto il giorno, mi pare normale, no Fepè? Eh beh. Eh scavo, dai, eh Rolly Stone, forever ragazzi. E sarà in buona compagnia perché domani avremo un sacco di novità, tantissime novità di progressive, di blues, di jazz. Cioè scaderemo l'inferno, domani faremo un jump, penso il pomeriggio, più o meno, no Fepè, più o meno. Domani no, intorno alle tre e mezza, quattro. Tre e mezza, quattro ci sarà uno dei jump più belli nella storia del nostro canale DF Point 1 Channel, ma, ma, lo so, torna a batte il ferro, torna a batte il ferro ragazzi perché abbiamo scatenato i nostri tecnici del suono, i più preparati al mondo. Questo Blu-ray audio di Dark Side of the Moon, uscito in contemporanea col venire, quindi il cinquantesimo anniversario, Dolby Atmos Mix, curato da James Gadry, non solo. 24 bit, 192 kHz, cioè non 96, 192 kHz, che è una cosa importantissima perché vuol dire che è tratto dal master analogico originale. Allora, ve lo diciamo chiaro e tondo, avete presente il cofanetto quello Immersion? Questo se lo mangia, questo se lo mangia, è l'ultima copia che abbiamo, domani ne arriveranno altre, quindi vi posso fare, lasciate immaginare la qualità audio di questo Blu-ray cosa possa essere, micidiale. Lo so, a qualcuno di voi che ha detto, a me sono apporto, lasciate sta, questo vinile dei Pink Floyd, domani ne avremo un'altra tonnellata, suona dall'asta grande, e domani, se facciamo un tempo, se facciamo un tempo, avremo il nuovo degli Acqua Fragile, sempre di Progressive, arriverà il CD doppio dal vivo degli Arena, degli Arena nuovo, e ripeto, tantissime attualità, seguiteci, dateci una mano, inondateci di like, iscrivetevi al carai, che sta andando benissimo, la recensione che abbiamo fatto dei Pink Floyd ha fatto boom, boom, veramente boom, grazie a tutti voi che avete collaborato, contattato, parlato con noi, rispondiamo a tutti, o quasi tutti, quando possiamo farlo, 15 ore all'alba, Rolly Stone, Acne Diamonds, sarà qui in negozio.